Per quanto riguarda l'integrazione, quando non si riesce a raggiungere con l'alimentazione la quota di calcio, talvolta il medico è ovviamente obbligato a prescrivere degli integratori. Gli integratori a base di calcio sono molto comodi perché è una pasticca e ovviamente basta prendere quella. D'altra parte è ampiamente dimostrato che il calcio preso attraverso gli integratori si assorbe ancora un pochino peggio di quello presente negli alimenti. Oltretutto spesso gli integratori di calcio possono dare alcuni problemi a livello gastrico, quindi certamente utilizzare l'integratore se il medico lo prescrive, ma possibilmente cercare di ridurre al minimo l'uso dell'integratore sostituendolo con gli alimenti più ricchi di calcio. Grazie